ciao, poveri nusi, Sam sarà mio yeah yeah Claire, più grandi non ce n'è, yeah yeah avanti, siamo i più grandi yeah yeah Claire, è grande quanto un castagno, grande quanto un bagno era divertente anche lui, bello è il mio contributo, gli diamo il premio per il miglior coro dell'anno allora fateli sentire cosa sapete fare, siete proprio solo voi, io adesso, sei pronta? provi di partire Claire, siamo la creme, ciao, passo e chiudo, vai Romeo no mi sono affeso, basta si può mai giocare con te, uffa, ti offendi sempre dai, è troppo divertente, vai, tu, 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 ma che cosa sono questi corretti ridicoli? è andata Romeo vai ragazze, in realtà questi corretti ridicoli è perché abbiamo fondato l'Oriek e Claire Claire non ho mai sentito un'idea così ridicola e stupida di questa non è stupida, è che questa è la nostra amicizia amicizia sì, gli amici si sostengono siamo amici, ci sosteniamo e ci raccontiamo anche i segreti che carini, che delicati ciao ma tu chi sei? io sono Sam ti puoi sedere qui se vuoi, ti puoi sedere qui per Claire non sarà un problema qua non c'è a posto no no no, sai che ci risolviamo il problema, ti puoi sedere vicino a noi scusa che cosa credi di fare? lui deve far parte del nostro club ma quale club dell'Oriek e Claire? ma ti sei vista, sei pure sporca la camicia no no, ma tu in piedi non hai neanche un posto dobbiamo parlare, riunione veramente vuoi far entrare quello stoccafisso, quello staccafisso, quello staccafisso, è il nostro club ah sì, dobbiamo farlo entrare nel nostro club no per favore no stai ho detto di no ciao ciao ragazzi ok siete pronti, siete pronti, è arrivato il momento ora ti facciamo vedere una cosa pronti? uno, due, tre e yeah yeah avanti siamo i più grandi uh noi siamo lo yeah yeah club il più grande club di tutta la scuola e noi vorremmo che tu no no vorremmo che tu ne facesti parte dell'unico club della scuola ti va di farne parte? sì dai forse ci penserò eh ho fatto colpo eh Cleo glielo dici colpo basso bassissimo però ho fatto colpo no Lily mi dispiace ma penso proprio che tu ti stia sbagliando sì eh prima cosa non abbiamo parlato e seconda cosa non mi sembrava molto interessato eh Lily quando parliamo però ci devi ascoltare ma è così bello è così bello no perché è così bello solo perché eh perché è biondo, alto muscoloso poveri illusi Sam sarà mio nostro ragazze avete sentito che cosa stanno complottando quelli sfidati? sì il club è dello yeah yeah avete sentito la sigletta? sì però lì per sempre amicizia sì però loro insieme sono così carini sono forti l'unione fa la forza noi siamo così siamo in svantaggio in questo momento noi dobbiamo il modo per controattaccare dobbiamo batterli in tutto certo però come? allora ragazzi rimangate a noi trovo ancora che sia un'idea assolutamente stupida però insomma guardateci cioè siamo letteralmente delle pantere eleganti con il nostro charm potremmo fare un clubetto pure noi sì un club serio però il club delle culle con due o cioè deve essere un segreto comunque una cosa tipo ho un'idea ho un'idea ho un'idea ho un'idea le secret le secret si poi facciamo tipo anche non lo so motto tipo non lo so dai si si aiutami non posso fare tutto da sola non so mai dire niente di sfigato durante le lezioni bellissimo secret quindi facciamo ci mettiamo anche un ballettino prima a destra e poi a sinistra no bella prima a sinistra poi a destra sinistra a destra sì un club che si rispetti ha delle regole assolutamente sempre vestite cool ok sempre coordinate nelle coreografie sì anche se con te sarà abbastanza difficile perché non senti mai la manza però dobbiamo mettere su una coreografia da Bea Cicamala io ho un'idea perfetta ce l'ho ragazza 7-8 andiamo a volare ciao 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 Sam ma ci avete copiati copiati scusa non era un'idea stupida era un'idea stupida il fatto che voi creaste un club sentiamo come si chiamerebbe il vostro club noi siamo le siche e è molto maleducato parecce a qualcuno scusa ma qualcuno chi? tenetevi pure i vostri segreti e tu devi prendere una decisione in che gruppo vuoi stare? ma ovviamente è il gruppo delle più cool della scuola no noi abbiamo avuto l'idea originale sì infatti no no lui verrà con noi abbiamo avuto noi l'idea originale no verrà con noi no vai raggiungere ma ti puoi stare? ragazzi ragazzi facciamo che passo allora è guerra è guerra sia guardati le spalle eh lili ricordati che nel nostro club la cattiveria non esiste e comunque dobbiamo ancora parlare di questa cosa perché io non sono d'accordo che quel non so neanche come si chiama entri nel nostro gruppo quindi io me ne vado ci rivedremo sicuramente state matta a prendere beh ragazze non abbattetevi sapete perché? perché? ho una cosa per voi oh non mancate per il nuovo show dei me contro te per i loro dieci anni correte ad acquistare i biglietti e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao